aspetta mi sta chiamando penso una dell'agenzia pronto è prima possibile in realtà posso aspettare sì 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 vale i saldi vale i saldi è da solo sono da solo sì 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 senza animale di di che di che di che sei gay ok diglielo diglielo perché se se è omofoba non la prendere digli che fumi torboni digli che fai bong di tutto il giorno c'è disponibilità verso poveriggio avanzato tipo le 5 e 5 e mezzo digli che fai bong giganteschi da 3 metri che non c'entrava nemmeno un po' prima magari verso le 4 faccio un bong gigante signora non gliela dia fa un bong gigantesco fai bong questo è un drogato 5 metri meglio sarebbe un quarto alle 6 sarebbe perfetto ciao dario mannaggia la miseria non era non credo che fosse un signore omofobo era un signore normalissimo un della scienzia non ああ non Grazie a tutti.